Dettato la cameretta nuova Quando siamo cresciuti i miei genitori hanno deciso di cambiare i mobili della camera mia e di mio fratello Carlo e hanno chiesto il nostro parere punto a capo Io avrei voluto un letto ha forma di missile spaziale perché da grande voglio fare l'astronauta punto e virgola Carlo invece voleva che il suo letto avesse le vele virgola perché gli piace il mare punto a capo mamma e papà hanno detto che poiché siamo tipi speciali virgola avremo dei mobili particolari punto a capo a capo oggi virgola mentre eravamo a scuola finalmente sono arrivati e non vedo l'ora di giungere a casa punto a capo già nel corridoio si sentiva un odore strano virgola quell'odorino particolare che hanno le cose nuove punto a capo Carlo mi ha superato ed ha aperto la porta prima di me due punti il mobile era lì virgola e che mobile punto esclamativo a capo è molto colorato virgola con parti azzurre virgola arancio e gialle virgola e poi è alto virgola con i letti a castello e con gli scalini per salire punto a capo ci sono due scrivanie ai lati e si può scendere anche con la corda anche con la corda virgola ci sono sportelli e mensole ed è una meraviglia punto esclamativo a capo la corda e il lampadario sono decorati con le stelle con le stelle e i pianeti virgola per farmi sognare lo spazio punto bambini il dettato è finito ora potete riascoltarlo per apportare eventuali correzioni e dopo come di consueto fate il disegno e colorate bene un abbraccio vi voglio bene la maestra Jessica